Preside, lei scende in campo questa mattina a difesa della scuola per tutelare il diritto degli studenti a poter effettuare le loro lezioni in ambienti confortevoli, in primo luogo riscaldati nei mesi più freddi. Certo, abbiamo questo disservizio che è iniziato giorno 11 e oggi ne abbiamo 29, quindi 15 giorni che abbiamo questo guasto che non si è risolto. Io ho fatto le mie richieste al consorzio provinciale e non ho avuto nessuna risposta, abbiamo denunciato già questa cosa giorno 12, subito appena si è verificato il guasto, poi il 13 abbiamo fatto un sollecito e non avendo avuto risposte mi sono persino rivolto al prefetto specificando a lui che c'è questa situazione di disagio per i ragazzi. Quindi ho mandato questa comunicazione, il 20, un ulteriore sollecito del 22, non ho avuto nessuna risposta. Ieri ho convocato l'assemblea dei genitori, ho coinvolto loro, ho convocato anche il consiglio d'istituto, speravo insomma che questa cosa si risolva il più presto possibile. Nel frattempo per, diciamo, fronteggiare quelle che sono le contestazioni dei genitori, dei ragazzi, ho fatto tarolo ridotto, però nonostante ciò insomma è una situazione insostenibile. È vero che la Sicilia è un posto abbastanza caldo, ma è anche vero che le aule sono vuote, non sono riscaldate a prescindere, quindi almeno nei mesi più freddi, cioè gennaio, febbraio e marzo, insomma sarebbe cosa buona che fossero riscaldate. Sì, necessariamente, perché tutto sommato insomma la temperatura all'interno è inferiore a quella dell'esterno, perché dopo le feste di Natale le aule vuote insomma sono a presse di freddo, è necessario e importante che ci siano i condizionatori. Attraverso le nostre telecamere lei può approfittare per lanciare un ulteriore appello, nonostante insomma la tempestività nelle richieste. Sì, io mi auguro insomma che gli enti preposti cercano di affrontare questa problematica e risolverla il più presto possibile.